Benvenuti cari amici, cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio L'Ora Italiana, anche questa domenica in diretta per voi fino a mezzogiorno e oggi saremo tra l'altro insieme ai nostri amici del Comites di Zurigo. Ci troviamo negli studi di Radio L'Ora, una radio alternativa di Zurigo e noi conduciamo un programma la domenica mattina, Radio L'Ora Italiana, un programma che ormai ha quasi 40 anni. Il nostro compito è quello di informare alla collettività facendo un servizio ai nostri connazionali informando su quello che succede qua in Svizzera e l'abbiamo fatto anche durante la pandemia, proprio durante il lockdown, siamo andati in onda ogni domenica senza mancare una settimana. Il mio nome è Emilio Triconella, parlo a diverse trasmissioni di Radio Stat Filter di Winterthur in lingua italiana. Nel 2020 abbiamo dovuto informare i nostri connazionali per via radio dello svilupparsi della pandemia sia in Italia che in Svizzera e delle misure che i governi in Italia e in Svizzera avevano preso per contrastare la pandemia in tutti i suoi aspetti. Abbiamo fatto parte di questo importante progetto di sostegno per le radio estere in lingua italiana del Comites di Zurico con il quale collaboriamo come con tutte le altre istituzioni.